L'Oderò l'Eterno in ogni tempo La lode so sulle mie labbra avrò L'alma mia si glorierà in Dio Ogni umili all'unire glorirà Magnificate Dio con me Il nome tuo saldiamo insieme Ho cercato Dio e mi ha risposto Liberandomi da tutti i miei timori L'Oderò l'Eterno in ogni tempo La lode so sulle mie labbra avrò Mai anzi glorierà in Dio Ogni umili all'unire glorirà Magnificate Dio con me Il nome suo saldiamo insieme L'Oderò l'Eterno in ogni tempo Liberandomi da tutti i miei timori Amen Evangelo di Luca capitolo 15 Vi chiedo di pazientare ancora qualche istante in piedi Poi potremo accomodarci Leggeremo i primi sette versi Tutti i pubblicani e i peccatori Si avvicinavano a lui per ascoltarlo Ma i farisei e gli scrivi Mormoravano Dicendo Costui accoglie i peccatori E mangia con loro Ed egli disse loro questa parabola Chi di voi avendo cento pecore Se ne perda una Non lascia le novantanove nel deserto E non va dietro quella perduta Finché non la ritrova E trovatela Tutto allegro Se la mette sulle spalle E giunto a casa Chiama gli amici, i vicini E dice loro Rallegratevi con me Perché io ho trovato la mia pecora Che era perduta Vi dico che allo stesso modo Ci sarà più gioia in cielo Per un solo peccatore Che si ravvede Che per novantanove giusti Che non hanno bisogno di ravvedimento Amen Potete prendere posto Fratelli e sorelle Gesù stesso affermerà di se stesso Possiamo leggere queste parole In Giovanni capitolo 10 Verso 11 e verso 14 Io sono il buon pastore E il buon pastore Dà la sua vita per le pecore Io sono il buon pastore E conosco le mie E le mie conoscono me C'è questo meraviglioso E noi vogliamo ringraziare il Signore Che ci lega Col nostro sommo pastore Il nostro buon pastore Amen E sappiamo che Sin dalla fondazione del mondo Egli ha preparato i nostri giorni E dall'ora che Egli ci ha amato Predisponendo La venuta del suo figliolo Cristo Gesù A morire sulla croce Per rimettere i nostri peccati L'atteggiamento di questo pastore Sicuramente un atteggiamento lodevole Possiamo esprimere sicuramente Certamente Che Egli è amorevole E misericordioso Egli è colui che Dà valore Anche a questa pecora Che si è smarrita Lo stesso ha fatto Gesù Cristo Verso di noi E verso tutti i peccatori Però vogliamo per qualche istante Soffermarci Sulla situazione Sulla condizione In cui si trova Questa pecora smarrita E sicuramente possiamo dire Che chi si smarrisce Chi si perde E' colui che ha smarrito La via principale Si è allontanato Sta percorrendo una strada Sbagliata E dal punto di vista spirituale Potremmo dire che E' colui che si è allontanato Dal Signore Che ha fatto Come dice L'Apostolo Paolo Quando scriveva A Timoteo Ha fatto Naufragio Della propria fede E chi si allontana Dal buon pastore Sicuramente Lo ha fatto Cercando qualcos'altro O non ascoltando più La voce E il richiamo Del buon pastore Ma sicuramente La sua condizione Quando un'anima Si allontana Da Cristo Si allontana Dalla sua parola Dalla sua voce O possiamo dire Che la sua condizione Morale Spirituale Fisica A 360 gradi È una condizione È una condizione Pessima E Gesù Lo sa E il Signore Lo sa Il conteggio Che fa il Signore Non è basato Sulle proporzioni Sul proprio guadagno Beh Se ne è persa una Ma tanto ne ho 99 E' meglio preservare Queste 99 Il Signore È alla ricerca Del singolo Il Signore Ha stretto Una relazione Personale Con noi Il Signore È venuto A cercarci Lì dove eravamo Mentre eravamo Sporchi Lontani Da Lui Mentre eravamo Smarriti E noi vogliamo Ringraziare il Signore Perché Credo che Quando leggiamo Questi passi Delle Sacre Scritture Quando ascoltiamo Queste parole Riusciamo a dimmedesimarci Sappiamo Cosa significa Stare lontani Dal Signore Non sentire Più il suo richiamo La sua voce I motivi Dello sviamento Possono essere Molteplici O Ci si può Sviare Per l'attaccamento Alle ricchezze Per le amicizie Mondane Perché si cede Alla tentazione Ci si può Allontanare Dal Signore Per tantissimi Motivi Ecco perché La parola Del Signore Ci incoraggia A restare Fermi Nella fede A rimanere Incrollabili Maldirà Ma al di là dei motivi Il Signore è preoccupato Il Signore è interessato Alla nostra Alla nostra anima Alla nostra vita E noi vogliamo ringraziare Dio Perché Quando anche Nessun altro Potrebbe Aiutarci Potrebbe Condurci Potrebbe Guidarci Abbiamo il nostro Signore Cristo Gesù Che è Interessato A noi Alla nostra anima Al nostro destino Eterno Amen Fratelli e sorelle Essere perduti E trovarsi In questa condizione Sicuramente Ci porta A pensare Alla paura Allo smarrimento Che Possono Travolgere Il cuore Di chi Si è allontanato Da Dio Perdere La speranza È qualcosa Di terribile Sapere Che Arriverà Il giorno Della morte Sapere Che Sta arrivando Il ritorno Di Cristo Gesù Ed essere Consapevoli Di Essere Perduti Di essere Distanti Dal Signore Di non essere In comunione Con Lui Di essere Stati Travolti Nuovamente Dalle cose Vecchie Da una vita Peccaminosa È Terribile È Terribile E Spero Che Questa Condizione Possa Ancora Oggi Renderci Sensibili Farci Tremare Ove C'è Questa Situazione Dove È presente Questa Condizione Non possiamo Non possiamo Vivere Lontani Dal nostro Pastore Dal nostro Signore Cristo Gesù Abbiamo Bisogno Di sentire Di sentire La sua Voce Abbiamo Bisogno Di essere Guidati Da Lui Io Non posso Credere Che oggi Dei credenti Possano fare A meno Della lettura Delle Sacre Scritture Possano Aver Dimenticato La necessità L'importanza Di addentrarci Nella parola Di Dio Di scavare Profondamente Di cercarlo Con tutto Il nostro Cuore Perché il Signore Ancora oggi Sta parlando E parla Per mezzo Della sua Parola E per mezzo Della sua Parola Che gli Continua A far A farci Crescere Nella fede La fede Viene Dall'udire E dall'udire La parola Di Cristo Questi sono I segnali Che dovrebbero Farci Scuotere L'anima Il cuore La mente Non possiamo Rimanere Lontani Dalla parola Di Dio Non possiamo Non amare Il Signore E la sua Parola Amen Amare La parola Di Dio Significa Essere Legati Alla parola Del Signore Significa Dipendere Dalla parola Di Dio Significa Riconoscere La sua Autorità La sua Autorevolezza Ma pensiamo A un istante I sentimenti Che possono Pervadere Questa pecora Smarrita E così Facendo una Raffigurazione All'anima Che si allontana Dal punto di vista Spirituale Dal Signore Si allontana Dal greggio Può darsi Che inizialmente E faccio Riferimento Anche a quella Parabola Che Gesù Citerà Subito dopo Probabilmente Inizialmente Sarà qualcosa Di emozionante Il figlio Al prodico Che si vedeva Con tutti Quei soldi Eredità Di suo padre Da poter Spendere Nei piaceri Oh Sicuramente La carne Sarà Tirata Per provare Emozioni Nuove Sensazioni Ma quanto Durerà Le gioie Mondane Le gioie Peccaminose Sono effimere E producono Solo morte Ma ringraziato Sia il Signore Perché Il Signore Ci dà Questa sensibilità Il Signore Ci aiuta A predisporre Il nostro Cuore All'udire La sua Voce E se In un primo Momento Il figlio Al prodico Potè Gioire Godere Di quel Danaro Ben presto Si rese Conto In che Situazione Si era Cacciato Si rese Conto Che lì Non aveva Più Nessuno Immaginiamo Questa pecora Sola Non ha più La guida Non ha più Un riferimento Non ha più Nessuno Che lo conduce E In balia Dei lupi Delle bestie Rapaci E lo fu Per dei momenti Anche il popolo Di Israele In queste condizioni Quando abbandonava Il Signore E si ritrovava Al centro Dell'attenzione Dei suoi nemici Che detestandolo Cercavano Di distruggerlo Di reprimerlo E sapete L'avversario Delle anime Nostre E colui Che la parola Di Dio Ce lo ricorda E lo vogliamo Ricordare Anche questa mattina Non per dare Enfasi Al suo potere Ma per Essere Consapevoli Che per questo Motivo Dobbiamo Rimanere Attaccati Al nostro Sommo Pastore Va come Un leone Ruggente Cercando Di prendere Di afferrare Chi è Alla sua Portata E noi Vogliamo Stringerci Davvero Sempre di più Al Signore Perdere La speranza È qualcosa Di terribile Non vogliamo Vivere Vanamente I nostri Giorni Ma vogliamo Consagrarli Al Signore In Isaia Capitolo 53 Verso 6 È scritto Noi tutti Eravamo Smarriti Come pecore Ognuno Di noi Seguiva La propria Via Ma il Signore Ha fatto Ricadere Su di Lui L'iniquità Di noi Tutti Oh che Grande Pastore Fratelli E sorelle Colui Che si è Caricato Dei nostri Peccati Colui Che si è Caricato Del giudizio Che spettava A noi Colui Che si è Caricato Del fardello Del nostro Peccato Egli E' stato Colpito Egli è stato Maltrattato A motivo Della nostra Salvezza Ma bisognava Rallegrarsi Dirà il padre All'altro figlio Del figlio Il prodigo Perché questo Tuo fratello Era morto Ed è tornato In vita Era perduto Ed è stato Ritrovato Allontanarsi Da Cristo Significa Morire Significa Nuovamente Essere Separati Significa Perdere La speranza Dell'eternità Ma quando Quell'anima Viene recuperata Significa Ritornare In vita Oh quanto E' importante Fratelli E sorelle Comprendere Che non Possiamo Allontanarci Dal nostro Amato Signore Cristo Gesù E quando Dico Questo Fratelli E sorelle In pratica Questo si traduce In una vita Di comunione In una vita Come dicevo Prima Che continua Ad amare La parola Del Signore Quando Diciamo Che il Signore E' il nostro Baluardo E' la nostra Fortezza Non sono Solo Espressioni Emotive Fine A se Stesse Significa Che noi Confidiamo Nella Sua Parola Che noi Crediamo E noi Accettiamo Quella Parola Accettiamo Che dobbiamo Allontanarci Dal male Per consacrare Santificare La nostra Vita Non lasciare Che il peccato Continui A tormentarti Non lasciare Che il peccato Continui A legarti Non lasciare Che il peccato Ti indichi Un'altra Via Un'altra Strada Ascolta La voce Del buon Pastore Ritornerai Nella Sofferenza Perderai La speranza Perderai Perderai Tutto ciò Che Un tempo Ti rasserenava Sentivi La pace La gioia Nel cuore Quella vera Ma un passo Dietro L'altro Ci si può Deviare Ci si può Sentire Sempre meno La voce Del Signore Il suo Richiamo Per questo Fratelli e sorelle Questa mattina Vogliamo Riflettere E considerare E Quando anche Ci fosse Qualcuno Che è Lontano Dal Signore Questa parabola Ci insegna Che Gesù È colui Che non si perde Mai d'animo Non è mai Sfiduciato Ed è pronto A lasciare Le 99 Per andare A recuperare Il Signore È colui Che ci perdona Da ogni iniquità Il Signore È colui Che alla destra Di Dio Il Padre Ed intercede Per noi Se qualcuno Ha peccato Abbiamo un avvocato Presso il Padre Questa mattina Vogliamo Pregare Per le anime Perdute Di questo Mondo Ma anche Per le anime Perdute Che hanno Imparato Ad utilizzare Una maschera Che hanno Imparato A convivere Con il peccato Pensando Di acquitare Di azzittire La propria Coscienza Con qualche Sporadica Presenza Forse Forse in qualche Culto Forse nel Tirare Un foglietto Del calendario Forse nel leggere Un versetto Qua e là Il credente Sin dal mattino Ha bisogno Del nutrimento Spirituale Il Signore Rafforza La nostra fede Per mezzo Della sua parola Questo significa Impegno Significa Riservare Del tempo Significa Andare Contro I desideri E le voglie Della nostra Carne Significa Acquistare Un cuore Saggio Essere Consapevoli Che di questo Abbiamo veramente Bisogno E nella preghiera Sarebbe importante Fratelli e sorelle Sottolineare Le cose Di cui abbiamo Veramente Bisogno Le necessità Soprattutto Spirituali Perché Il Signore Ci mostra Chiaramente La realtà Della nostra Condizione Egli è pronto A recuperare Quello che ho perduto Dirà Gesù Io non sono venuto Io sono venuto A salvare Ciò che era Perduto Gloria al nome Del Signore Perché anche noi Eravamo perduti E siamo stati Salvati Per la grazia Di Dio Essere soli Allontanarsi Significa Ritrovarsi Come dicevamo Prima Senza la speranza Ma essere Scoraggiati Sapere Sapere Che siamo In balia Sapere Che si è In balia Dell'avversario Delle anime Nostre La parola Di Dio Ci dice Quando Si rivolgeva I profeti Rivolgevano La parola Del Signore Ai profeti Israele Si trovava In balia Delle bestie Feroci Ma il Signore È colui Che continua Ad avere Il suo sguardo Amorevole La sua attenzione Verso di noi E che bel momento Quando Quella pecora Viene recuperata Tra i farisei Gli uomini Del Sinedrio C'era Una posizione Netta Un giudizio Meglio ancora Un pregiudizio Forte Nei confronti Dei cosiddetti Peccatori Dovevano essere Marginati Non dovevano Stare con gli altri Dovevano essere Ripudiati E non amati Per questo Mormoravano Quando Gesù Lo vedevano Insieme ai peccatori Il problema È che loro Non riconoscevano Il loro peccato Si sentivano Troppo giusti Che non ci sia Questa condizione Fratelli e sorelle Che ci porti A volte A pensare Che c'è un gran bisogno Intorno a noi Che ci sono Anime perdute Che sono da salvare E credo che questa mattina Se dovessi Chiedervi Ci sono Dei cari Per la quale Voi state pregando Affinché accettino Al più presto Il Signore Io credo Io credo Che tutti quanti Alzeremmo la mano È vero? Tutti quanti Figli Mariti Mogli Genitori Parenti Familiari Amici Non sono qui Forse sono del tutto Disinteressati Al Signore Tutto questo Potrebbe ferirci Potrebbe procurarci Dolore Ma ricordiamoci Fratelli e sorelle Il valore Della preghiera Dei giusti Davanti al Signore Pur sconosciuti Al mondo Pur non consapevoli Del loro bisogno I loro nomi Attraverso la nostra preghiera Di intercessione Sono davanti al Signore E noi pregheremo Anche questa mattina Signore Raggiungi Raggiungi Quelle anime Raggiungi Signore Quelle anime Che vivono Nelle tenebre Raggiungi Coloro Che si sono sviati Coloro Che si sono addormentati Coloro Che si trovano A vivere Un cristianesimo Superficiale Signore Raggiungi Chi non ha più La forza Di prendere La tua parola Nelle mani Di leggerla Di studiarla Di meditarla Certo Sono cose Queste Che vengono Ripetute Ma se vengono Ripetute C'è un motivo E lo Spirito Santo Lo sa Il motivo E sta incoraggiando Tutti quanti noi Me per primo A sentire Il bisogno Di ritornare Dal divino Maestro Dal sommo Pastore Bella questa scena Neanche la stanchezza Neanche L'impegno Del ritorno Questo pastore Se la carica Sulle spalle Consapevole Consapevole Della sofferenza Di quella pecora Consapevole Della sua miseria Dal punto di vista fisico Spirituale Morale Consapevole Che è sicuramente Stanca È alla ricerca Affannosa Di qualche piacere Di qualche felicità Duratura Il Signore Il Signore è consapevole Il Signore conosce Ogni cosa Dei nostri cuori Sa qual è Il nostro La nostra condizione Spirituale Egli non molla Egli è colui Che non spegne Il lucignolo fumante Che non trita La canna rotta Egli è colui Che vuole curare Egli è colui Che vuole intervenire Vogliamo Alzarci in piedi Fratelli e sorelle A presto Egli è colui Che vuole Che non trita Ciao Alzarci in piedi Ci vediamo Che vuole Grazie a tutti